Da giovedì 2 giugno alle ore 21 a cadenza settimanale andrà in onda una puntata di antologia reporter grazie all'archivio storico curato da Gianluca Luguasto che ne ha effettuato le riprese in regia con Andrea Di Cristofalo, un programma realizzato da Nicola Di Giugno fra il 2008 e il 2012 per TFN di cui era direttore di produzione Michele Lacagnina. Vi proponiamo una breve anticipazione del primo appuntamento dedicato a Michele Abbate, il sindaco di Caltanissetta ucciso nel 1999. 7 maggio 1999, 7 maggio 2009. Sono trascorsi 10 anni dall'omicidio del sindaco Michele Abbate, una vita spezzata, un assassino che mise in ginocchio Caltanissetta e la sua gente. Ripercorriamo la storia di una delle pagine più nere della città, la storia di un uomo diventato sindaco quasi per caso, amato dalla gente, da quanti vedevano in lui l'esempio più pulito della politica. Una politica fatta di ideali, senza compromessi e di scelte coraggiose. Per l'uccisione di Michele Abbate, oggi sconta la pena in carcere un giovane nisseno, William Antonio Pilato, re o confesso dell'omicidio, per un posto di lavoro. Di Michele Abbate abbiamo parlato con la sorella Rosalba e di quel periodo abbiamo ritrovato le immagini grazie all'archivio di Salvatore Scarantino, un'intera puntata di reporter dedicata a un sindaco portato via da un triste destino, ma del quale resta sempre vivo e forte il ricordo. Grazie a tutti!